Se ci si è addentrati in un luogo impervio dell'Appennino può bastare un lieve infortunio ad una caviglia per impedirci di tornare alla macchina in autonomia. E a quel punto non si può fare altro che chiamare i soccorsi, 118 vigili del fuoco e quando il luogo dell'infortunio è particolarmente difficile da raggiungere può essere necessario l'intervento del personale specializzato del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Nell'ultimo mese i recuperi di questo genere sono stati 15 e tutti per cercatori di funghi. È vero che siamo su un territorio appenninico ma questo non vuol dire che sia un territorio semplice. Anche sull'Appennino ci sono importanti valloni con importanti pendenze e tali che impiegano sia noi soccoritori della Guardia di Finanza sia gli altri enti che concorrono nell'operazione di ricerca a impiegare un rilevante numero sia di personale che di mezzi e un intervento seppur ad un infortunato lieve può comportare diverse ore di lavoro e relativa esposizione ai rischi da parte degli operatori di soccorso. Tra gli ultimi interventi di recupero di cercatori di funghi infortunati alcuni hanno richiesto anche 40 soccorritori tra i vari enti allertati e ore di ricerca e di recupero. In alcuni casi il ferito è stato assicurato alla barella tirato su da ripide scarpate con le corde e poi trasportato a spalla per lunghi tratti di bosco. Bisogna conoscere i propri limiti relazionati al territorio in cui si svolge l'escursione piuttosto che la ricerca di funghi. Si va preparati dal punto di vista dell'attrezzatura. Una scarpa idonea è solo e soltanto uno scarponcino da trekking che permetta un buon grip sul terreno e una sufficiente tenuta della caviglia. Si deve sapere il territorio in cui si va a svolgere l'escursione e le relative condizioni meteo e mai da soli, possibilmente in due, rimanere a vista tra i due perché recentemente è successo e abbastanza spesso che sì fossero in due i cercatori di funghi ma si allontanassero talmente tanto tra di loro da non vedersi e non sentirsi.